Da oggi Pescara ha qualcosa in più, dice il consigliere Piero Giampietro. L'artista annunzia scritto sul muretto, nei pressi della nave di Cascella, le belle parole che Pasolini espresse quando nel suo viaggio arrivò nella città adriatica. Pescara è splendida, scriveva Pasolini in un reportage del 59 dedicato alle spiagge italiane. Erano i mesi di luglio, agosto e settembre del 59. Pierpaolo Pasolini, di cui quest'anno ricorre il quarantesimo della scomparsa, è in viaggio lungo la costa italiana e realizza questo suo reportage per la rivista Successo. Il poeta, scrittore, regista e attore, uno dei più grandi artisti e maggiori intellettuali del ventesimo secolo è entusiasta della Pescara di allora e è arrivato in città così la descrive. Pescara è splendida, credo sia l'unico caso di città, di vera e propria città, che esista totalmente in quanto città balneare. I pescaresi ne sono fieri. Giungo all'ora del tramonto, della grande frenetica passeggiata prima di cena. Chiedo a un uomo anziano dov'è un albergo. Lui si fa in quattro, vuol salire sulla macchina col figlio per accompagnarmi. Mi dice subito, è anche lei come tutti vedrà quando uno viene una volta sulla spiaggia di Pescara e ci ritorna. Ecco, vede, adesso va fino in fondo a questa strada. Prima della rotonda c'è un'aiuola dove è segnata con i fiori la data di oggi e commosso di fronte a tanta grazia e a tanto russo. Sì, infatti è collì dei fiori rossi e viola a segnare la data di oggi, uno dei grandi giorni dell'estate della città. Il lungomare è un fiume di gente elegante, bella, bronzata, massiccia, prosegue Pasolini, che oggi scriverebbe la stessa cosa.